Deborah Giorgi, presidente del Soroptimist Club International di Taranto, nonché capofila dei vari club service che hanno con la loro presenza e partecipazione animato e voluto questa serata. E allora Deborah, il tuo stato d'animo, è bello vedere tante realtà associative, la società civile che partecipa, che rende la cittadinanza partecipe di tale evento. Certo, l'idea era proprio quella di sdoganare questa festa della donna, di farne un evento partecipato per tutti. Parlando appunto con la consigliera Gina Lupo, noi ci siamo così un po' volute aprire alla cittadinanza. Lei da parte sua e io come club service, non volendo fare un evento soltanto per le mie socia. Di questo ne ho parlato con molti amici, presidenti di club service, femminili e non, ho trovato spazio, ho trovato accoglimento di questa proposta e quindi siamo qui stasera per celebrare un evento in cui per una volta tanto si parla di felicità. E Dio solo sa, Taranto, quanto ne ha bisogno. Quindi non ci resta che imparare a essere felici. Certo, e lo impareremo stasera ascoltando Crepè.